Straordinariamente anche a giugno DR 5.0 unica full optional di serie a 17.900 euro grazie al super bonus Rottamazione DR. E se non hai la Rottamazione abbiamo comunque la soluzione per te. Vi aspettiamo in concessionaria. Venite a scegliere la vostra nuova DR. Vi aspettiamo presso la concessionaria Madansky Auto che trovate a Omenia e Cannobbio.